Ehi, sono Pazox e oggi siamo in un nuovo indie horror, ovvero Hotel Remorse, e qui ci sono le 2-3 di mattina e mezzo, credo. Vabbè, non è proprio un nuovo indie horror, ma è molto vecchio perché l'ho trovato sul sito, così ho visto. Proviamolo, sembra inquietante perché no. Porca puttana lo spavento! Mi stai prendendo per il culo cosa? Ciao letto, che sembra un pezzo di stoffa. E per interagire. Helen is brilliant, waiting for the plan of this, but we'll have accepted that she is only one alone. Vabbè, cose amorose che vogliono sposarsi perché sono stati cattivi. Poche parole. E apriamola questa porta con E? Ok. Oh, cazzo. Corridoi. I rochidoi. Cari amici, i rochidoi. Io vi ricordo che vi odio. E mi sa che non provo neanche ad aprire le porte, guarda. Non provo neanche ad aprirle. Perché sicuramente sono tutte bloccate o tutte finte come al solito. Fanno i giochi. Horror, per questo è un vecchio gioco horror. Quindi avrà il suo vecchio stile del cazzo. Vero? Vero. Ok, andiamo avanti finché spero non sia un loop continuo. Sempre i stessi corridoi. Sempre la stessa cosa. Perché mi incazzo. Ma c'è qualcosa là per terra. Che mi sta aspettando? Che mi sta aspettando? Grazie Windows con questi... Oh, sì, è appena... No, ma è meglio. Sì, sempre sulle cose di sposarsi. Salfala. Porca puttana! Devi morire mare, lampadina. Ok. Ok. Io c'ho la caga, eh. Oh, un libro aperto così a caso. E un altro. Paffanculo. Grazie per questo bel foglio che voglio disegnarci. C'è proprio Crash Bandicoat sopra. C'avevo tanta voglia di disegnare qualcosa. Io non mi giro indietro che mi sono girato. Oh, cazzo. Dimmi che non cambia la stanza adesso. Non si apre? Non si apre, cazzo. Che devo fare? Ma what the fuck mi stai dicendo? Fumo, non... Così, effetto di fumo a caso. No, 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 no. Oh, cazzo. Oh, cazzo. Oh, cazzo. Io pensavo fosse un giochino del cazzo. Non voglio niente io. Sono un buon uomo. Eh, no, guardi. No, sto bene così. Ho appena mangiato, per favore. No, no. Ho appena fatto colazione. Per favore. Io non ne ho. Non voglio stare solo nell'oscurità. E piangere. E alzarmi di notte. Per chi non stai zitto? E' punto. Cazzo. Ok. 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 Chi cazzo ci va a vivere in questo albergo? Prima cosa, eh. Oh, no. C'è la destra e la sinistra. La destra e la sinistra. La destra e la sinistra. La davanti. Non si apre. Cosa? Oh, mio Dio. No. No, guardi. Non voglio stringermi il culo. Prendi la chiave. Veloce. Apri la porta. Madonna santa. Ma stiamo scherzando? Questi cazzo di cose. Ah, sei un foglio, bambino. Finalmente. Il silenzio. E tu mi hai bisogno di aiuto. Chi deve dormire? Ma la mia mente si è persa. E... 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 Oh, grazie, porta. E... Niente. Corridoio. Rocchidoio. Ok. Per favore, stiamo calmi con queste ciatate sulle mie orecchie, eh. Mio Dio, sto gioco ti fa venire dei botti. Un altro... Foglietto del cazzo. Che mi dirà qualcosa del cazzo, vero? Io sto arrivando per te. Noe, non voglio ospite. Che cazzo? Oh, subito! Ascensore? Bisogna di lei. Non ti... Subito! Madonna. La gente di fuori spesa... Oh, mio Dio! Oh, grazie, satanismo. Grazie. Cazzo. Cazzo. Ho paura di ascensore, io no. Così, sparate mi immagini alla cazzo di canelli con quelle immagini, ma vaffanculo. Oh, Charlie, muori male. Muori male, Charlie. Oh, mio Dio, ma... In memoria del crescito... Ma non è bene con la coppia, mio Dio, mio Dio. Che dire, questo era Hotel Remorse. Non farò mai più un gioco del genere. Se avete altri giochi indie simili da consigliarmi, basta scriverlo nei commenti. Io ora vado a riprendermi un attimo con delle brioche o qualcosina, perché... Per colpa di un ascensore ci sono rimasto di merda. Che dire, ci vediamo al prossimo gameplay, come sempre, un dolcissimo e caronissimo... Che, che, che. Che, che...